Musica E siamo dunque a Felino per quanto riguarda una gara internazionale per dilettanti elite e under 23 Il 47esimo trofeo Città di Felino, organizzazione da parte di una società come la Velo Club, davvero sempre molto in gamba Abbiamo già oltrepassato il tratto di trasferimento, questo è la chilometro zero che dà il via ai 193 corredori che rappresentano ben 40 formazioni in questa gara internazionale Un saluto particolare da Giorgio Dattaro, al gruppo sportivo Emilia, presidente Adriano Amici e alla sindaco Barbara Lori che ha abbassato poc'anzi la bandierina di partenza Siamo a Felino dunque, una gara importante questa per dilettanti elite e under 23 e il Gran Premio Associazione Produttori Salame Felino Trofeo Soffiera Mezzadri, trofeo Tecnogaz, trofeo System, trofeo Etno 1, medaglia d'oro Ugo Baldi, medaglia d'oro Licino Ferretti Siamo al primo tentativo d'attacco di giornata, lo porta il nazionale ungherese, un nazionale ungherese che va al comando in questo momento Ma è solamente l'avvio di una gara molto molto difficile e di difficile interpretazione, questo è Zoltan Meksen che va al comando, nazionale ungherese Siamo proprio in avvio, la bellissima veduta di Felino dove si svolge questa gara internazionale che dicevamo vede al via, bene 193 corridori in rappresentanza di 40 formazioni Ancora Zoltan Meksen, nazionale ungherese al comando, una gara che si disputa su un tracciato di gara di primi 100 km abbastanza pianeggianti E poi si entra nel vivo con i gran premi della montagna, mentre qui la testa della corsa termina il primo passaggio pianeggiante Dicevamo poi si entra nel vivo con i gran premi della montagna e con la gara che diventa molto difficile Sono 18 giri da 5 km e 500 metri quelli pianeggianti, mentre vediamo che l'ungherese sta per essere raggiunto da una prima parte del gruppo E poi i restanti chilometri impegnativi sono quelli che porteranno i corridori nel tratto in salita Il primo tentativo di fuga oramai sta per esaurirsi, il Gran Premio Città di Felino edizione numero 47 inizia ad entrare nel vivo Eccolo il corridore ungherese che sta per essere raggiunto dal gruppo, Zoltan Mekaren dunque chiude il suo tentativo Si è messo comunque in mostra ed era forse quello che voleva in questa apertura di gara Immagini bellissime di tutto il gruppo che sfila in un tratto di strada importante Siamo nel tratto pianeggiante di questa manifestazione per dilettanti elite Under 23 Difficile sempre capire chi potrà essere il vincitore Mentre entriamo nel vivo della gara, due uomini alla comando Siamo alla chilometro di gara 22, questo è Gianmarco Pedrazzini della San Marco Caneva Che va in fuga con il corridore francese Thomas Rostollan delle Pomme Marsiglie Formazione proprio francese, due uomini alla comando Pedrazzini che ricordiamo proprio nei giorni scorsi a Corinaldo ha vinto il trofeo Sant'Anna Due uomini al comando, vantaggio minimo Siamo sempre nei primi giri di questa gara Ce ne sono tanti abbiamo detto nel tratto pianeggiante Il vantaggio rispetto al plotone principale è minimo Vedremo se Pedrazzini e Rostollan riusciranno comunque In questa prima parte della competizione di questo 47esimo città di Felino A recitare un ruolo importante Ruolo importante che ha provato prima a recitare un corridore ungherese Adesso tocca questo tandem italo-francese Però il vantaggio rispetto al gruppo non è sicuramente alto Dunque vedremo se i due riusciranno quantomeno in questo tratto pianeggiante Ad avere un minimo di notorietà importante Anche se abbiamo detto Pedrazzini è riuscito a vincere il Sant'Anna a Corinaldo E per lui è stata un'affermazione molto bella E lo vediamo proprio in scia alla francese Rostollan E dunque è una situazione ancora tutta la tierire Il città di Felino 47esima edizione entra nel vivo Proprio in questo momento E vediamo che adesso il gruppo torna compatto Siamo alla chilometro 35 Si esaurisce il tentativo di Pedrazzini e Rostollan Il gruppo non ha concesso spazio e torna praticamente compatto I 193 al via Ricordiamo che proprio alla via di questa gara Ci sono i campioni italiani Elite Matteo Montaguti Della Gavardo Tecnor Poi troviamo anche l'Under 23 Simone Ponzi Della Zalf Desiree Fior E c'è anche un altro campione italiano Quello a cronometro impegnato in questo città di Felino Ovvero sia Adriano Malori Della Filmop Parolin Ma torniamo ancora alla corsa Perché c'è un ulteriore attacco Tre chilometri dopo il ricongiungimento Al chilometro 38 Attaccano in due Sono Kraben Il portacolori della Namibia Campione namibiano lo scorso anno E Lubzeko Kalinin Che vanno alla comando Ci avviciniamo dunque Alla chilometro 50 di gara Con Kraben e Kalinin Che provano una sortita a due Jan Kraben Che è stato anche protagonista a Folignano Ha ceduto solo negli ultimi chilometri Mentre gli inseguitori Vediamo con un gruppo abbastanza sfilacciato Che cerca di tornare sulla testa della corsa Formata da Kraben e Kalinin Lubzeko il secondo Namibiano il primo Questo per dare anche un colpo Di internazionalità A questa 47esima edizione Della città di Felino Internazionale per dilettanti Velo Club Felino E dunque una manifestazione Che come sempre va per la maggiore Che ingloba Proprio in questa corsa I migliori rappresentanti Del ciclismo dilettantistico nostrano E anche per quanto riguarda Quello europeo E anche di oltreoceano Il gruppo vediamo rallenta La situazione vede sempre Kalinin e Kramen Un Ubzeko e un Namibiano Alla comando Dietro le squadre cercano di Tornare sulla testa della corsa Anche se è difficile Al momento Poter dare un'interpretazione Proprio alla corsa stessa Qualcuno prova ad uscire però Dal gruppo e mette nel mirino Il tandem Kramen-Kalinin Sono quattro uomini Che provano a tornare Sulla testa della corsa Fra poco andremo A vedere la situazione Si potrebbe formare un drappello Di sei uomini Alla comando Siamo alla chilometro Cinquantotto di gara Ci apprestiamo Un ulteriore passaggio Su quello che sarà Il traguardo a finale Con i quattro inseguitori Che stanno per piombare Sulla testa della corsa Sono Dempster L'australiano Poi troviamo Gamberoni della Pagnoncelli Maggiori della Ciappone di Lizia E Berdos della Permac Quattro uomini Che stanno cercando Di tornare sulla testa Della corsa E si avvicinano A Kraven e a Kalinin Dunque ci potrebbe essere Fra poco Una nuova situazione In testa Alla quarantasettesimo Città di Felino I quattro inseguono Due al comando Vantaggio minimo Per Kraven e Kalinin Nei confronti di Dempster L'australiano Mentre attenzione Si forma adesso Un sestetto alla comando Vediamo la composizione Proprio del sestetto Kraven Kalinin Sui quali Si sono riportati Dempster Gamberoni Maggiore E Berdos Intanto Abbandoniamo il tratto In pianura E iniziamo Il tratto ondulato E di difficile interpretazione Il vantaggio Dei sei uomini Alla comando Ad inizio salita Rispetto al plotone principale È di un minuto primo Vedremo se il vantaggio Potrà anche aumentare Perché sei al comando È un bel trappello Formato da un po' di squadre Che vanno per la maggiore E che tentano il successo finale Qui alla città di Felino Ci avviciniamo dunque Alla passaggio del GPM Con Kraven Kalinin Dempster Gamberoni Maggiore E Berdos E Berdos Alla comando Sei uomini Che per il momento Stanno monopolizzando Questa gara In salita Il vantaggio Dicevamo Rispetto al plotone principale Era di un minuto primo Ma tente In questo momento Ad aumentare Dunque Vanno più forte I sei al comando Rispetto al plotone Che perde Ancora Poi andremo alla verifica Proprio al Gran Premio Della montagna Per fare l'appunto Della situazione Intanto Vediamo che La testa della corsa È tornata Nel tratto pianeggiante Si avvicina Ad un ulteriore passaggio Il vantaggio Sul gruppo È aumentato Attenzione Un primo e 30 secondi Il vantaggio sul gruppo Sono rimasti Nel frattempo Però in cinque Perché nel tratto Più difficile Si è staccato Dalla testa della corsa Maggiore Dunque Il gruppo È segnalato A un primo e 30 secondi Un gruppo Che aveva accusato Anche un ritardo Di due minuti Che adesso però È in forte recupero Rispetto ai cinque uomini Al comando Non c'è più maggiore Della ciopone di Lizia Ma ci sono Craven Kalinin Dempster Gamberoni E Berdos Della Permac Cinque uomini Alla comando Gruppo che insegue E che sta riducendo Il margine Rispetto ai cinque Alla quintetto Che sta monopolizzando Anche questo secondo attacco Alla salita Di Felino Dunque situazione importante E di difficile interpretazione Fra poco vedremo Quello che potrà succedere Perché ci viene segnalato Che da dietro Ci sono scatti E controscatti Che potrebbero riportare Qualcuno In testa Alla corsa stessa Situazione che potrebbe Mutare da un momento All'altro Per il momento Con le immagini Siamo sui cinque uomini Alla comando E sono Craven Kalinin Dempster Gamberoni E Berdos Ma dietro La situazione è in piena evoluzione Ora c'è un tentativo Da lungo da parte Del namibiano Craven Che prova a staccare gli altri Ma è solo un timido tentativo Anche per assaggiare Le condizioni Dei compagni di fuga Ma attenzione Dicevamo Dietro Si stanno muovendo Si stanno muovendo Il gruppo Si sta muovendo Aveva accusato anche Un ritardo Di due minuti Adesso Il plotone Sta cercando Di portarsi Sulla testa Della corsa Sempre cinque uomini Alla comando Ma gruppo In avvicinamento E dunque Fra poco Potremmo anche Arrivare ad una situazione Di gruppo compatto O addirittura Di qualcuno del gruppo Che potrebbe piombare Sui cinque Uomini al comando Che fino a questo momento Hanno ottenuto Un ritmo Abbastanza buono Immagini suggestive Per il quintetto Alla comando Dietro intanto Ci giungono informazioni Di una serrata Da parte di Raizoni E Bates Che hanno lasciato La testa Del gruppo Per portarsi Sui cinque uomini Alla comando Sempre cinque uomini Alla comando Come abbiamo detto Dunque dietro Raizoni e Bates Provano a lasciare La compagnia del gruppo Per riportarsi Sulla testa Della corsa Vediamo se in due Riusciranno proprio A piombare Sui cinque uomini Al comando Che ricordiamo Sono Dan Kramen Kalilin Dempster Gamberoni E Berdos Ecco la prima parte Del gruppo Non vengono inquadrati In questo momento Raizoni e Bates Che sono già fuoriusciti Dalla plotone stesso E sono avvantaggiati Rispetto al gruppo principale In pratica Sono tre tronconi Quelli che al momento La gara ci propone Siamo al chilometro 110 di gara All'incirca Con la situazione Che vede sempre Cinque uomini al comando Poi due Come Bates E Raizoni Che provano A tornare sulla testa Della corsa Il gruppo Dunque una situazione Abbastanza fluida In questo momento E di difficile interpretazione Con la nostra telecamera Siamo alle spalle Siamo alle spalle De cinque al comando Le ricordiamo ancora una volta Kraven Kalilin Dempster Gamberoni E Berdos Nella frattempo Qualcuno si stacca Perde le ruote Qualcuno aumenta Qualcuno cerca di scattare E vanno via Per quanto riguarda Il Gran Premio della Montagna E per quanto riguarda La giudicazione di quest'ultimo Che viene vinto Da Castantin Kalilin Dunque Gran Premio della Montagna Che vada a giudicarsi Il corridore Ubzeko Che è andato in fuga Ricordiamo Il chilometro 38 Insieme alla namibiano Dan Kraven In quadratura Per Castantin Kalilin Che nell'ultimo tratto Prima del GPM Ha sfoderato Una bella azione Ma è solo un'azione Per passare per primo Al Gran Premio della Montagna Rientrano un po' tutti Adesso sulla testa Della corsa Corsa che sta entrando Nel vivo Proprio in tutto Il suo splendore Questa Quarantasettesima edizione Della città di Felino Che sta dando Veramente lustro Al ciclismo Dilettantistico Internazionale Risaliamo ancora Con la testa della corsa Con una situazione Alle spalle Proprio della corsa stessa Abbastanza fluida E vediamo ancora Scatti e controscatti Come avevamo già Accennato in precedenza In testa Alla gruppo Che insegue Che insegue I cinque Alla comando Dove sono sempre Molto attivi Ricordiamolo Raizoni e Bezze Che ci hanno già provato A riportarsi sui due Senza riuscirci Tenteranno ancora Perché stanno dimostrando Di essere In uno buonissimo Stato di forma Vedremo se alla fine Riusciranno proprio A riportarsi Sulla testa Della corsa stessa In un momento decisivo Proprio Di questa manifestazione Ancora Il gruppo che sfila Qualcuno si rialza Si gira Cercano collaborazione Un po' Tutte le squadre Per risalire Immagini che ci arrivano Dall'arrivo E la situazione Infatti è cambiata Siamo adesso Alla chilometro 118 Attenzione Raizoni e Bezze Sono rientrati Sui cinque uomini Alla comando E poi Da soli Se ne sono andati Dunque Alla comando Raizoni e Bezze Ci ha provato Kramen A tenere la loro ruota Non ci è riuscito Sono rimasti Allora Raizoni e Bezze A comandare la corsa Poi dietro In pratica Gli altri sono stati ripresi Dalla gruppo Che viaggia a compatto Alle loro spalle Raizoni e Bezze Al comando Situazione letteralmente Capovolta E cambiata Della gara Ma attenzione Mentre ci avviciniamo All'attacco Dell'ultimo giro La situazione cambia ancora Perché su Bezze e Raizoni È piombato Il campione Croato Tomislav Dankulovic Che ha raggiunto i due E li ha staccati E adesso è solo All'accomando Thomas Dankulovic Campione croato All'accomando Eccolo Ha già oltrepassato L'ultimo giro E il suono della campana Il suo vantaggio All'attacco Dell'ultimo giro È di 18 secondi Su Bezze E pensate un po' 54 Su Raizoni Ecco l'ha inquadrato Il portacolori Della Loborica Croazia Dicevamo Campione croato Dorsale 174 Per Tomislav Dankulovic Questo ragazzo Che in questo periodo Sta andando Veramente forte È alla ricerca Di un successo Importante In vista anche Di altre gare Importanti E questa di Felino Questa internazionale di Felino Lo è sicuramente È uscito da solo dal gruppo Ha raggiunto Sia Bezze Che Raizoni Li ha staccati Ed è transitato All'attacco Dell'ultimo giro Mentre Sta salendo Verso il GPM Con un vantaggio Di 18 secondi Su Bezze E 54 Su Raizoni E avevamo visto male Il dorsale 171 E non il 174 Comunque Questo poco conta In questo momento Della gara Con Tomislav Dankulovic Che transita La GPM Questi sono I corridori Che provano A riportarsi Sulla testa Della corsa Il gruppo In questo momento Si è sfaldato Tutti tentano Di rientrare Su Dankulovic Senza però A questo punto Riuscirci 10 km dall'arrivo Per gli inseguitori Un po' più avanti Abbiamo detto C'è Dankulovic Il campione croato Che è il portacolore Anche della laborica Croazia Che ha la comando Un'azione Bellissima La sua Una solo Per riportarsi Su quelli che erano Alla comando Della corsa E che adesso Vede proprio Solo solitario Il corridore Croato Che è la ricerca Di questo successo Importante Si guardano Si osservano E questo favorisce Proprio Dankulovic Che adesso E nel tratto Meno difficile Dopo aver Oltrepassato Il GPM Dankulovic Pedala bene Spinge un rapporto Lunghissimo In questo momento Per mantenere Un discreto Vantaggio Rispetto Ai più immediati Inseguitori Siamo all'ultimo Chilometro Per Tomislav Dankulovic Che si è presto A vincere Il 47esimo Trofeo Città di Felino Dankulovic Un'azione nata Prima dell'attacco Dell'ultimo giro Che fino a questo momento Ha pagato E lo sta facendo Nel miglior modo possibile Con questo arrivo In solitario Mantiene un vantaggio Che non è ancora Rassicurante Ma Il corridore croato Si sa sempre di più Avvicinando Al traguardo di Felino Pronto Ad alzare le braccia Al cielo Per aggiudicarsi Questa vittoria Questo è il pubblico Questi sono Naturalmente Coloro che lavorano Ed eccolo qui L'arrivo Di Dankulovic L'oborica Croazia E la campione Croato va a vincere Questa manifestazione E adesso è volata Per quanto riguarda Il secondo posto Con Raduskov Davanti a Marte Poi Renev Poi arrivano Via via Tutti gli altri Ancora una volata Stavolta Con un gruppo Più numeroso Ricordiamo dunque L'ordine d'arrivo Primo Tomislav Dankulovic Secondo Sergei Skov Terzo Daniel Martin Quarto Sergei Renev Quinto Hoereve Mihojlovic Sesto Damiano Margutti Settimo Jonathan Bellis Ottavo Giovanni Carini Nono Andrei Zoltos Decimo Enrico Cecchine Nuovo l'arrivo E questo è il secondo posto per Rudaskov che chiude questa nostra telecronica Vuoi ringraziare i tuoi compagni, qualcuno che ti ha aiutato in gara? No, fanno uno su Mi Pomovi Lui se tanto ringrazia per squadra perché ha fatto un grande lavoro perché ultimi due giri Chieselowski e Micholevic fatti tutto in salita e controllati tutto il gruppo e lui possa fare tutto solo Questa 47esima edizione è stata un ulteriore successo, già quelle precedenti avevano dato grande motivo di soddisfazione Devo dire che anche quest'anno è andata benissimo, il tempo ci ha aiutato, l'organizzazione come sempre è stata direi pregevole Quindi tutto ha funzionato per il meglio e di questo siamo molto soddisfatti Un grande finale degno del ciclismo eroico, una grande cavalcata solitaria di Dan Kulovic Sì, sinceramente non me l'aspettavo perché il percorso nel finale diventa veramente duro e severo E uno da solo non è mai arrivato, penso che sia la prima volta e quindi onore a questo ragazzo Che ha vinto una gara a mio avviso fra le più belle che si sono disputate a Felino Grazie